Si è svolto ieri mattina adottati il primo calo dall'alto dei rocciatori per una prima reale fotografia di quanto accaduto lo scorso 10 dicembre, quando alcuni macigni sono franati giù dal costone roccioso sopra la strada provinciale 12, occupando la carreggiata e causando tanta paura tra i residenti, molti costretti a lasciare le proprie abitazioni in via precauzionale. L'amministrazione comunale sta lavorando incessantemente per ripristinare la situazione il prima possibile. L'enorme quantità di massi, detriti, terreno e vegetazione venuta giù ha stupito persino il rocciatore che si è calato dall'alto, il quale ha affermato che in 31 anni di questo lavoro non ha mai visto nulla di simile. Tre i livelli di barriere paramassi che sono state letteralmente spazzati via, ma che comunque hanno attutito il colpo di centinaia di tonnellate di detriti precipitati. Ora a preoccupare, fanno sapere dal comune, e la quantità di materiale in equilibrio precario che potrebbe venire giù da un momento all'altro. Pertanto il primo intervento da fare, dopo un disgaggio preventivo che consentirà altre lavorazioni in sicurezza a valle, è quello di ripristinare le barriere scongiurando ogni altro pericolo per gli immobili in fase di disgaggio massivo e approfondito sulla parete rocciosa. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha annunciato che domani mattina un geologo rocciatore, certificherà l'effettiva condizione di pericolosità a valle e a monte, propedeuticamente all'avvio di ogni lavorazione. È stato già redatto un quadro di spesa, ancora non definitivo, che ammonta circa 400 mila euro per l'ispezione, disgaggio preventivo, ripristino barriere, disgaggio massivo, rimozione e smaltimento del materiale roccioso e detriti. Intanto sono in arrivo due importanti interventi della Giunta Comunale, il ristoro per le attività commerciali danneggiate dalla frana e l'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse economiche a sostegno del commercio e dell'artigianato di Ottati, pari a 19.613 euro previste dal Fondo Nazionale.